Grazie a tutti. Parlerò poco, però dirò cose, come dire, spero di non essere in polemica, però il professore Dorsi, devo dire che io sono un ammiratore di Angelo Dorsi, noi una scuola l'abbiamo fatta, abbiamo fatto l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nel Sud. Noi la battaglia contro il titolo quinto l'abbiamo fatta al momento giusto, negli anni novanta, ci siamo battuti contro le privatizzazioni negli anni novanta, all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici abbiamo contrastato le privatizzazioni che sono state fatte nel novantadue, nel novantatei, nel novantaquattro, abbiamo contestato la creazione del mercato dell'energia fatta dal centro-sinistra nel millenovecentonovantanove con il decaeto Bersani, numero settantanove del novantanove. L'abbiamo contrastata con tutte le forze, abbiamo cercato di fare una scuola di pensiero per i giovani del mezzogiorno, per dimostrare che il mezzogiorno non solo è culturalmente all'avanguardia, ma ha una tradizione che risale alla Magna Crescia, che risale alla grande filosofia. Noi abbiamo cercato di riportare il grande pensiero filosofico, storico filosofico nel Sud e poi abbiamo fatto l'assise di Palazzo Marigliano. L'assise di Palazzo Marigliano è stata quella che ha permesso l'esperienza dell'amministrazione Bassolino, che poi è andata a finire come è andata a finire. Ma io questo lo devo rivendicare con forza perché la memoria è una cosa che ci deve far pensare. Abbiamo l'assise di Palazzo Marigliano, ha fatto fallire il progetto Neonapoli, che è un progetto di sventramento del centro storico di Napoli. E ha permesso l'amministrazione, i primi due anni di amministrazione Bassolino, con l'esperienza di Vezio De Lucia e un'esperienza di riorganizzazione del comune attraverso l'opera di Scipione Bob, un professore di ingegneria, che rifece la pianta organica del comune di Napoli. Tutta questa esperienza è andata a finire come è andata a finire. Ma noi abbiamo rifatto l'assise, non convinti, proprio perché non siamo per la depressione, siamo per l'entusiasmo, siamo per i giovani. Le battaglie per l'acqua pubblica le hanno cominciate i comitati civici a Napoli di Alex Zanotelli, il forum dell'acqua pubblica, e poi l'abbiamo fatta noi dal 2004, con un appello alle borghesia meridionali, perché l'acqua non fosse privatizzata. Nel 2004, nel 2005, nel 2006, quando al comune di Napoli c'era la sindaca Rosa Russo Ierbolino, che fortunatamente capì e quindi annullò la gara per la privatizzazione dell'acqua. Quindi noi abbiamo sempre dato entusiasmo, abbiamo cercato di far carriere giovani, la battaglia sui beni comuni, quella di Stefano Rodotà, l'abbiamo fatta, quella di Salvatore Settis, l'assalto al patrimonio culturale, quello di Settis, è un libro del 2001. La battaglia contro la privatizzazione, contro il patrimonio dello Stato, S.P.A., infrastrutture S.P.A., quella era la prima del governo Berlusconi, 2001, legge finanziarie per il 2002. Ma poi invece la politica, la politica ha sbagliato tutto, tutto sul titolo quinto. Noi questa battaglia sul titolo quinto l'abbiamo persa 25 anni fa. La dovevamo fare non noi all'istituto con qualche professore, Gianni Ferrara, che allora aveva già 80 anni ed era già in pensione, con Paolo Maddalena, che oggi ce n'ha pure lui, come dire, è piuttosto, come dire, in là negli anni. L'abbiamo fatta con pochissime persone, con l'architetto Antonio Rannelli contro il federalismo. Perché un architetto fa un libro contro il federalismo? Perché la sinistra e l'Italia non aveva capito niente del federalismo, niente del federalismo. Diceva che il federalismo italiano non era un federalismo storico, ma era una riorganizzazione migliorativa dello Stato unitario. Non ha capito niente la sinistra, niente di niente, fino al titolo quinto. Il titolo quinto l'ha fatto il centro-sinistra, con quattro voti, quattro voti di scarto, quattro voti. Quindi, premesso che noi questa battaglia l'abbiamo, però io non mi voglio deprimere, perché voglio andare avanti. Allora, per andare avanti, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capire una cosa. I LEP, il mio amico Natale Coccoresi ha fatto un grande intervento. Ma non ci balocchiamo con questi LEP, perché i LEP non risolvono nessun problema. I LEP sono la stessa cosa che si diceva negli anni 90. La sinistra non ha mai capito niente sui LEP. Ha creduto che se uno mette uno standard, uno standard minimo, poi lo poteva fare il privato, lo poteva fare il pubblico, lo poteva fare il governo, il governo di destra, di sinistra. Questa idea è fallita. Quindi non è che mettendo i LEP noi ci salviamo. No, noi ricadiamo in un altro ragionamento tecnico che ci vedrà succumbere un'altra volta. Perché i LEP non possono essere dei LEP a ribasso. Perché i LEP a ribasso non ci interessa. A noi ci interessa che i LEP siano la qualità migliore della sanità che c'è in Italia. Allora i LEP è la sanità in Lombardia. Allora il livello essenziale è la sanità a Lombarda. Ok? Non ci interessa che se noi abbiamo 100 posti di terapia intensiva in Lombardia, allora a Reggio Calabria ne dobbiamo avere un minimo di 30. Questo non ci interessa. Noi dobbiamo fare una battaglia perché ogni cittadino italiano abbia gli stessi servizi in tutto il territorio italiano. E quindi se c'è una sanità che funziona in Lombardia, c'è una sanità che funziona in Calabria. Punto. E quello che costa, costa. Perché i diritti costano. Se non ce li possiamo permettere, ci dividiamo quello che abbiamo. Questo è ragionare per il comune. Questo è ragionare in modo unitario per un paese giusto, un paese civile, un paese che combatta la diseguaglianza. Il divario è stato artificialmente creato in questi anni sull'acqua. È inutile che ci svegliamo adesso a dire che l'acqua sta... Adesso è scomparso un intero fiume. Cioè noi abbiamo la scomparsa del Po, che è il primo fiume italiano. La pianura padana si è formata in miliardi di accumulazioni delle acque portate dal Po e sta scomparendo. Lo volete capire? Lo vogliamo capire quello che sta succedendo? Questo è un dramma. Allora le giovani generazioni dovrebbero, come dire, entusiasmarsi per dire facciamo qualcosa subito, non c'è più tempo, dobbiamo agire subito. Invece noi abbiamo creato il divario, se volete leggere il PNR, c'è il divario nella gestione dell'acqua. Perché c'è il divario nella gestione dell'acqua? Perché nel nord ci stanno le imprese industriali, cioè c'è l'A2A, che è pubblica ovviamente perché è pubblica dal punto di vista proprietario perché è controllata da due comuni, cioè da diversi comuni, ma i più importanti sono Milano e Paescia. Un minuto. Un minuto. Allora, perché è successo tutto questo? Allora dirò solo questo. È successo tutto questo perché noi non abbiamo... La sinistra, mi permetto di dire, non ha avuto mai un concetto di Stato. Allora, io non mi voglio impiccare al concetto di Stato, però voglio dire, noi dobbiamo avere un'istituzione, chiamiamola... Adesso c'è la riscoperta delle istituzioni dal basso, mi riferisco al libro di Robert Esposito, che è un bellissimo libro. Le istituzioni del comune, cioè il libro di francese di Dardot e Laval, che è un libro importantissimo, che hanno capito come si possa fare un'organizzazione collettiva che non si chiama Stato, non la chiamate Stato, non ci piace la parola Stato. Allora chiamiamola come vogliamo, chiamiamola in un altro modo, ma è un'istituzione collettiva che deve fare redistribuzione, che deve essere un'organizzazione nuova, un nuovo tipo di modello, altrimenti noi l'unico modello che resterà sul campo sarà il modello di organizzazione di impresa, quello che viene eseguito dal neoliberismo. E quindi qualunque cosa sarà organizzato dall'impresa. e nulla sarà organizzata da istituzioni alternative. Noi dobbiamo inventarci un'istituzione alternativa, un'istituzione, oppure riprenderci le istituzioni che ci sono. E ce le dobbiamo riprendere per fare il bene di tutti, benessere collettivo. Non per tornare indietro, attenzione, a uno Stato che però potrebbe fare l'interesse di quello, di interesse di quell'altro. Noi dobbiamo andare in avanti verso un'istituzione, chiamiamola Stato, che faccia l'interesse di tutti, l'interesse di tutti, non l'interesse di una sola parte. Non si usano i soldi di tutti per fare gli interessi di poche persone. Si usano i soldi di tutti per fare l'interesse di tutti. E questo è l'unica via, è l'unico programma che secondo me potrà, come dire, in qualche modo porre qualche alternativa di fatto. Grazie. Ci verrà sempre detto che non c'è alternativa possibile, che non si può fare altrimenti, come ci hanno detto negli anni Ottanta e negli anni Novanta. Grazie. Grazie, grazie molto a Sergio Marotti. Grazie.